Siamo parlando di singoli aspetti su cui ci confronteremo, sui parlamenti successivi, perché veramente il confronto parlamentare è bravo a tenere caratteristiche di libertà, di attenzione anche rispetto alle indietrazioni delle intanto. In questa ragione, prendendo atto nel punto a cui eravate un concorso politico, e io probabilmente ho preso dati per i giorni, ritiro, risparmettamente, risparmettamente lo spigio sia nell'esame successivo che faremo in attivo 2, che riguarda la propria disposizione del Senato, sia a quelli successivi, a passaggi parlamentari, questa è la questione, la natura, il risultato, il compiuto, il nuovo tenente del Senato.